La ricerca del lavoro è un'attività complessa, che richiede una buona dose di organizzazione ed uno studio del settore in cui si decide di proporre la propria candidatura. Bisogna fare una mappatura preliminare degli operatori del settore, costruendo un elenco ragionato delle attività produttive con indirizzi, recapiti e contatti. Le fonti per realizzare questa mappatura sono internet, riviste di settore, i numerosi siti di incontro tra domanda e offerta di lavoro ed ovviamente la rete dei servizi per il lavoro che può assisterti nella tua ricerca. Una volta stesa la prima mappatura, si potrà iniziare a contattare queste realtà per verificare che ci siano dei posti disponibili. Spesso è richiesto di compilare un modulo online o di inviare il curriculum vitae tramite email. Puoi rivolgerti ai centri di orientamento al lavoro per trovare un supporto utile per organizzarti nella ricerca. Grazie. Grazie.